E con piacere, quale responsabile del programma del partito, introdurre la prima delle iniziative che mi auguro sia la prima di tante, un'iniziativa operosa, operativa, quella della presentazione delle nostre proposte in occasione di sgravi IRPEF per alcune categorie sociali del nostro Paese, le quali parla sicuramente meglio di me Angelino Alfano e gli esperti. Quindi annunzio anche che a breve presenteremo una proposta che fa parte dei punti cardine del nostro programma, quella relativa alle semplificazioni delle procedure amministrative, perché ne abbiamo parlato a lungo e ritengo che siano maturi i tempi per trasformare e passare dalle parole ai fatti. Mi si consenta comunque, brevissimamente, se Angelino mi dà la disponibilità, di fare alcune brevi considerazioni di carattere politico, posto che da più di due settimane sono assente nel dibattito per motivi personali che mi hanno impedito di stare nella scena politica e anche stare in Parlamento, motivi banali, influenza, niente di particolare. per replicare con garbo ma con fermezza ad alcune considerazioni che sono state rivolte nei confronti di alcuni di noi, di questo tavolo, da parte di Silvio Berlusconi. E vorrei, quando si sostiene da parte di Berlusconi che il nuovo centrodestra è la stampella della sinistra e quando si sostiene che siamo i professori della politica, penso che doverosamente una puntualizzazione sia obbligatoria per chi ha una storia come quella del sottoscritto e come quella di tanti altri di noi, una storia che crede fermamente nei valori del centrodestra, delle riforme, della libertà dell'individuo, della trasparenza. Silvio Berlusconi nel febbraio del 2013, quindi immediatamente dopo le elezioni, diceva esattamente io sono disposto a votare la fiducia a Bersani Premier, sia chiaro se questo ci permetterà di dar vita a un governo politico, un governo di responsabilità. Ad aprile, da due mesi, ripetevo che occorreva un esecutivo di larghe intese e tanto più dopo quel che è successo poco fa ne sono convinto, il famoso attentato davanti al Palazzo Chigi, in occasione del giuramento del governo Letta. Il 30 aprile dichiarava, ho fatto nascere questo governo e un mio miracolo, caparbiamente voluto, era un governo con la sinistra di Silvio Berlusconi. Nel luglio del 2013 dichiarava, capisco che ci siano preoccupazioni che possano agitare qualcuno, ma l'input che sto dando è quello di concentrarsi sull'interesse del Paese e rendere questa alleanza, che io continuo a chiamare di pacificazione con la sinistra, qualcosa che possa essere qualcosa di storico, addirittura epocale dopo tanti anni di guerra. Serve un sostegno leale a questo governo, al governo della sinistra, con la sinistra, aggiungo io, e stimolo che faccia ciò che serve, ciò che viene richiesto da protagonisti dell'economia e che possa incentivare i consumi. Concludo, ad agosto del 2013, dopo la famosa sentenza della Cassazione, in occasione della manifestazione che si è tenuta davanti Palazzo Grazioni, non siamo degli irresponsabili, perché noi abbiamo detto che il governo deve andare avanti, questa nostra iniziativa non ha nulla di eversivo, come ha detto qualcuno, e ancora abbiamo confermato che il governo, lo deve approvare i provvedimenti economici e le riforme volute al governo. Bene, in queste dichiarazioni ci sta tutto, quello che significa coerenza ed incoerenza. Con la sinistra noi non siamo andati, siamo rimasti dove ci aveva portato Silvio Berlusconi, un governo di l'Argentese con il Partito Democratico, alla luce dell'esito del febbraio 2013, dove non aveva vinto nessuno. Siamo rimasti al nostro posto, abbiamo deciso di non cambiare partito, perché Forza Italia non era il nostro partito, non eravamo stati eretti sotto l'insegna di Forza Italia. Siamo stati coerenti nell'andare avanti nell'interesse del Paese e abbiamo creduto nelle parole di Berlusconi, tutte le volte in cui affermava, ed affermava pubblicamente ed anche in privato, che occorreva scindere la questione personale giudiziaria del suo accanimento, della sua persecuzione, rispetto agli interessi del Paese, in relazione ai quali il Governo doveva andare avanti. Se c'è qualcuno che ha cambiato idea, non è Alfano, non è Schifani, sono altri. Alfano e Schifani, che sono stati citati ieri dal Presidente Berlusconi, nel modo diciamo molto ironico, sostanzialmente affermando che con noi, con Alfano e Schifani, c'erano i professionisti della politica. Noi non replichiamo perché la politica è passione, non è professione e penso che lo abbiamo dimostrato in tutti questi anni, delle nostre battaglie, a costo di sacrificare interessi familiari, affetti, momenti anche di mancata tutela della propria salute. Lo abbiamo fatto con un credo, un credo delle riforme, un credo di libertà, un credo dell'affermazione dei diritti dell'individuo e di una migliore società italiana. Quindi vi chiedo scusa se ho voluto fare questa premessa, ma dopo due settimane di silenzio, dopo aver letto determinate considerazioni, era doveroso, per la mia storia, per la mia dignità, dire queste cose. Fermo restando che mi auguro, e sono fermamente convinto, che così come ha ben detto Alfano che ci faceva piacere che Silvio Berlusconi potesse fare campagna elettorale e non gli fosse impedito questo diritto sacrosanto, ci auguriamo, nello stesso modo, che la campagna elettorale si sposti sui temi, sui contenuti, sulle proposte. Questo interessa gli italiani, non le offese, non le battute. Vi ringrazio e ho il piacere di dare la parola al mio amico Angelino Alfano, al nostro segretario, al nostro leader, perché possa dare inizio a questa importante conferenza stampa che dà il senso di un partito che si muove sotto il profilo delle proposte concrete, perché su questa proposta è la presenza dei capiruppo né testimonianza, si misurerà la forza di volontà di cambiamento, ma la forza di volontà di attuare le nostre proposte in chiave legislativa, in chiave concreta e non in chiave soltanto edittale. Vi ringrazio. Buon pomeriggio, grazie. Noi siamo qui per presentare due piani che riguardano il decreto IRPEF e specificamente due grandi battaglie che noi intendiamo avviare a favore delle famiglie italiane e a favore delle partite IVA e degli autonomi. Questi saranno i nostri punti principali di intervento in Parlamento sul decreto IRPEF e cioè sulla riduzione delle tasse di 80 euro al mese di media per chi guadagna meno di 25 mila euro all'anno e che riguardano non solo il decreto IRPEF ma un'altra grandissima questione che sarà affrontata con la cosiddetta delega fiscale, cioè il riordino del sistema fiscale italiano. Noi oggi vogliamo dire con grande chiarezza che per noi il sistema fiscale italiano non può essere con un protagonista solo e cioè i lavoratori dipendenti ma deve avere come protagonisti altri due che per noi sono davvero essenziali partite IVA e autonomi e la famiglia. Noi oggi abbiamo una grande soddisfazione che è probabilmente insieme allo smontaggio della legge Fornero e al decreto quindi al decreto lavoro la più grande soddisfazione di questi due mesi e mezzo di governo. Noi siamo entrati al governo e siamo stati protagonisti della diminuzione delle tasse. Se oggi 10 milioni di italiani pagheranno 80 euro di tasse in meno o meglio gli verrà dato un bonus di 80 euro al mese a quelli che guadagnano meno di 25 mila euro all'anno ciò è stato possibile per il protagonismo e la forza del nuovo centrodestra che è in questa fase di cambiamento pilastro essenziale per la tenuta del governo. La diminuzione delle tasse 80 euro al mese è stata finanziata con il taglio a spesa non introducendo nuove tasse non introducendo nuove tasse assistiamo al tentativo davvero fuori dal mondo di dimostrare che queste tasse vengono finanziate questa diminuzione delle tasse questo bonus viene finanziato con un aumento di altre tasse. Non è vero e noi difendiamo questo grande risultato della diminuzione delle tasse 10 miliardi in più nelle tasche degli italiani 10 miliardi in più che possono alimentare i consumi. Ma il tempo della campagna elettorale è un tempo in cui si gioca a chi la spara più grossa e abbiamo assistito di fronte a un successo clamoroso come quello del montaggio della legge Fornero con il decreto lavoro a qualcuno che ha detto che era stato dettato alla CGL salvo poi vedere la CGL protestare in modo davvero vigoroso per l'approvazione di quel decreto. Quindi noi abbiamo ottenuto in meno di tre mesi di governo lo smontaggio della legge Fornero e la diminuzione delle tasse. Ma non ci accontentiamo. Siccome non ci accontentiamo oggi siamo qui a presentare due grandi piani di intervento che non sono risolutivi. Questi nostri due emendamenti, queste nostre due proposte concrete di oggi saranno evidentemente da considerare come e sono da considerare come l'avvio di una grande attenzione per i piccoli imprenditori, per le partite IVA, per gli autonomi e per le famiglie. Quindi i due piani di intervento sono famiglie e autonomi. Per quanto riguarda il fattore famiglia, noi diciamo che fattore famiglia e quoziente familiare devono rappresentare l'elemento cardine della riforma fiscale. Cioè i figli devono essere insieme alla famiglia i protagonisti del nuovo sistema fiscale italiano. I figli e la famiglia devono essere i protagonisti del nuovo sistema fiscale italiano. Ed è a loro che penseremo quando sarà portata in Parlamento la delega fiscale. È un inizio di percorso quello di oggi che dunque ci porterà all'obiettivo della delega fiscale con al centro la famiglia con figli. Ed è per questo che noi oggi proponiamo l'introduzione nel decreto IRPEF, e quindi adesso parlo dell'intervento su questo specifico decreto, del fattore famiglia. 1.500 euro oggi sono la media senza prendere in considerazione i figli di stipendio di chi poi beneficia del bonus di 80 euro. Noi diciamo che quella soglia di stipendio di mille di reddito di 1.500 euro va alzata a 1.800 per chi ha due figli, a 2.200 per chi ne ha tre e a 2.600 per chi ha quattro figli. Quindi in base al reddito i figli devono diventare leva di politica fiscale, leva di politica economica che rappresenta il vero sostegno alla famiglia. Questo per quanto riguarda il bonus da applicare alla famiglia intesa come composta da marito moglie con più di un figlio, cioè due figli, tre figli e quattro figli. In ambito di imprese voi sapete che esiste una franchigia che è di 10.000 euro per le piccole imprese, tra 7.000 e 10.000 euro in base alle situazioni e ai territori per le imprese che vengono sottoposte a IRAP e che beneficiano di questa franchigia. La nostra proposta è quella di aumentare questa franchigia. Quindi franchigia sull'IRAP per le piccole e piccolissime imprese. Fattore figli, fattore famiglia. Queste due grandi battaglie saranno per noi l'avvio di una riforma del sistema fiscale che abbia al suo centro gli autonomi e la famiglia. È una grande partita questa e il nuovo centrodestra intende giocarla da protagonista. Abbiamo altre idee molto importanti che durante il dibattito parlamentare faremo presenti a cominciare dalla ipotesi di estendere gli 80 euro di bonus non solo ai lavoratori dipendenti ma anche agli autonomi che guadagnino meno di 25.000 euro e che non abbiano dipendenti. Cioè sostanzialmente quelli che hanno una situazione reddituale uguale ai dipendenti. Stiamo lavorando per trovare le coperture anche a questa ipotesi di lavoro. Alle prime due ipotesi di lavoro abbiamo già trovato copertura. È per questo che io con soddisfazione per il nostro lavoro do la parola al capogruppo alla Camera e poi al capogruppo al Senato o viceversa lo stabiliranno loro. Adesso però voglio concludere dicendovi un'ultima cosa che è un obiettivo strategico sul quale stiamo lavorando e sul quale ci sentiamo di impegnarci. E cioè per i piccoli imprenditori fino a 30.000 euro, per i piccoli imprenditori, per gli autonomi fino a 30.000 euro, noi stiamo lavorando per un sistema di tassazione fissa a forfè con la eliminazione di oneri burocratici, amministrativi e contabili in modo tale che il lavoratore autonomo non sia costretto a spendere di più per dare la paga al consulente piuttosto che per pagare le tasse. Allora questi sono i nostri obiettivi di politica economica, di politica fiscale con al centro famiglia e autonomi. Quindi io vi ringrazio di avere partecipato a questo nostro incontro e do la parola a Maurizio Saccone. Grazie Angelino. Solo per ribadire che presenteremo nelle prossime ore, è scattato il tempo supplementare da poco per le quattro ore indicate dal Presidente Azzolini per la presentazione degli emendamenti, nel senso che da poco è stato riattivato il sistema informativo del Senato. Sono due emendamenti che avranno copertura adeguata, come potranno dire il Presidente Azzolini che il relatore collega da lì, anche in relazione a nuovi elementi relativi proprio alle coperture non soltanto cioè a quelli già noti nell'ambito del provvedimento. Aggiungo soltanto, ecco questi vorrei sottolineare rispetto alla conferenza stampa che ho visto prima di altri gruppi che sono una proposta verosimile, destinata ragionevolmente ad approvazione che chiederemo ai gruppi di maggioranza ovviamente di condividere, le cui coperture non sono così rilevanti e sono nel contesto di una manovra di oltre 4 miliardi ragionevolmente gestibili che l'obiettivo quindi è di rendere norma ciò all'atto della conversione in legge del decreto. Aggiungo solo un altro elemento nella linea indicata da Angelino Alfano di privilegio dei lavoratori indipendenti o quantomeno di recupero del ruolo della funzione dei lavoratori dipendenti rispetto a misure che sono state per lo più disegnate in relazione al lavoro dipendente che nell'ambito della legge delega che vuole produrre una regolazione complessiva in materia di lavoro vorremmo disporre, presenteremo a questo proposito un emendamento l'adesione, la possibilità di adesione volontaria del lavoro indipendente all'assicurazione pubblica contro la disoccupazione questo perché il lavoro indipendente sta vivendo un impoverimento molto significativo e subisce un colpo di frusta probabilmente ancora più rilevante di quello vissuto da molto lavoro dipendente perché non beneficia lo stato di ammortizzatori sociali. Fino a ieri collocavamo il lavoro indipendente nel rischio di impresa ma oggi dobbiamo riconoscere che per molti si pongono problemi di minimo vitale ai quali possano almeno accedere con una conveniente assicurazione pubblica su base volontaria. Grazie ovviamente su quanto ha annunciato da Angelino tutto parte dal Senato ma con la collaborazione dell'intero partito e della Camera quando il provvedimento sarà incardinato qui oltre alle cose che sono state dette noi sempre nell'ottica di collaborazione con questo governo e con quanto annunciato da questo governo abbiamo depositato qui alla Camera una proposta di legge che consegniamo quindi al Governo affinché la possa fare propria che riguarda tutta la vicenda di Equitalia e della compensazione fra debiti e crediti. Questo è un grande tema che ha visto l'Italia in procedura di infrazione perché i tempi di pagamento erano 30-60 giorni purtroppo in Italia accadeva che i tempi di pagamento erano 200 giorni a volte anche 1.200 giorni. Si è intervenuto sia durante il Governo Letta che durante il Governo Renzi per rimediare a tutto questo per consentire la cosiddetta compensazione e abbiamo annunciato con il nostro Governo che ci sarà la fatturazione elettronica per accelerare i pagamenti e che si libereranno 60 miliardi di debiti verso i fornitori da parte della pubblica amministrazione. In quest'ottica noi abbiamo fatto una proposta di legge che chiarisce ancora di più la vicenda della compensazione dei debiti crediti e soprattutto che possa mettere liquidà nel sistema perché anche quando lo Stato vuole pagare a volte di mezzo c'è tutta la vicenda delle cartelle sattoriali e di Equitalia. Allora questa proposta di legge che ovviamente io dopo daremo alla stampa consente di tutelare non solo le imprese e quindi di non farle fallire e vi spiego perché ma anche di tutelare tutto il substrato, tutta la filiera che c'è sotto l'impresa che molto spesso nella vicenda della compensazione non vede soddisfatti i propri crediti perché oggi, e la proposta di legge prevede una norma interpretativa in questo senso quando c'è un debito e un credito spesso quel credito va a soddisfare direttamente Equitalia e le cartelle che pennono verso il fornitore che vanta un credito da parte della pubblica amministrazione. Allora noi che cosa abbiamo previsto? Innanzitutto abbiamo previsto un'interpretazione che cioè la compensazione avvenga solo a richiesta di coloro che ne hanno interesse e che non sia automatica come oggi purtroppo prevede il decreto perché non è chiarito da questo punto di vista e quindi la norma, l'articolo 2 di questa proposta di legge chiarisce questo aspetto ma la cosa più importante è che qualora lo Stato debba pagare a un imprenditore, a un fornitore rispetto ad un credito prima di pagare si informa presso Equitalia quindi l'ente che poi deve procedere alle cartelle sattoriali per capire se l'imprenditore vanta un credito, un debito e libera immediatamente il 50% di soldi che l'imprenditore chiede allo Stato dopodiché, dopo questo 50% l'imprenditore può fare nei 15 giorni successivi un'istanza di reteizzazione e in quel caso lo Stato libererà l'altro 50% e quindi questo consentirà non solo all'imprenditore di avere immediatamente quelle risorse ma soprattutto di pagare tutto quello che c'è nel mondo sottostante l'impresa perché spesso la compensazione si porta Equitalia a trovare soddisfazione ma accade che chi fa subappalto, i lavoratori, i dipendenti, i fornitori non trovano soddisfazione da parte dell'impresa perché quella compensazione risolve il problema dell'impresa rispetto allo Stato ma tutto quello che c'è di sottostante non trova soddisfazione e molte aziende falliscono quindi questa proposta di legge di integrazione delle cose che ha detto Angelino Alfano consentirà di chiarire anche la portata rivoluzionaria di una cosa per la quale abbiamo combattuto moltissimo che è la compensazione i crediti debbi della pubblica amministrazione Sottolineature di carattere generale che mi paiono utili bene ha detto Angelino Alfano si tratta di emendamenti io mi riferisco solo alle norme concrete che presentiamo nel decreto legge di emendamenti che indicano nettamente una via quella della riconsiderazione della famiglia all'interno della tassazione dall'altra parte la ragionevolezza delle proposte con sagace il presidente Schifani due minuti fa mi chiedeva la entità perché siamo una forza di governo e quindi le nostre proposte devono essere attuabili all'interno delle grandezze previste dal decreto le due grandezze di entrambi gli emendamenti nel loro compresso sono dell'ordine dei 400 milioni di euro e quindi si tratta di grandezze assolutamente proponibili all'interno di quel decreto e di grandezze che possono essere puntualmente definite come coperture più onerosa all'interno dei 400 milioni è quella delle partite IVA e quindi per la enorme platea trattandosi di una nuova platea rispetto a quella prevista dal decreto come correttamente ha detto Angelino è chiaro che l'onere è maggiore per quello per il primo invece si tratta di una estensione degli stessi benefici a redditi più alti normalmente ma riferiti soltanto ad un codice con più figli a carico e quindi ad una famiglia a monoreddito evita anche delle sperequazioni ma di questo penso che il presidente Dali potrà dire con più puntualità dicevo è decisivo questo segnale indicano una direzione e hanno la dimensione compatibile con il decreto mi pare un modo assolutamente giusto di procedere per quel che riguarda le coperture data la dimensione della cosa che specificamente mi occupo anche qui modelleremo all'interno dei 400 milioni le due vie che riteniamo percorribili la prima è una estensione nel tempo della rivalutazione dei beni delle partecipazioni come sapete è stata fatta nella scorsa legge di stabilità e può essere estesa nel tempo sono norme che hanno successo che normalmente hanno portato più del previsto e quindi anche una quantità prudenziale di solito viene abbondantemente superata e che sono viste con favore da parte dei fruitori un'attenzione al ministro Alfano ed è questa forse nel tempo sarà utile rivedere bene la scadenza temporale delle partecipazioni perché non sempre dobbiamo costringere le imprese ad una revisione loro mi scuserete una parola inglese ma me la suggeriscono i noti settentrionari al budget che fanno le imprese ed è importante però perché lì che si formano le scadenze ed è importante non modificarli molto e quindi su questo sarà necessario lavorare ma sulla entità hanno entità assolutamente compatibili con l'intero importo ma noi la proporremo per una parte di esso quindi sempre nel solco di quello che abbiamo detto ragionevolezza ed attendibilità la seconda invece è un affinamento della spending review come sapete le cifre previste sempre dal commissario Cottarelli sono dei range anche questa è come quella di prima e naturalmente si è scelto correttamente nell'ambito dei consigli dei ministri un atteggiamento di estrema prudenzialità rispetto alle previsioni fatte dal commissario Cottarelli e riteniamo che l'ordine di 100 milioni su 4,2 che sono previsti capite bene che si tratta 4,2 miliardi 100 milioni capite bene che si tratta di cifre che sono assolutamente assolutamente definibili migliorando esattamente alcune delle riduzioni della spending review e io sarò attento insieme col Presidente Dalì a fare in modo lo dico sul piano tecnico che ho terminato che sia spesa corrente cercheremo sempre di non intervenire mai sulla spesa di investimento che in Italia è poca e quindi fondamentale è che ha una spesa corrente come quella del miglioramento della franchigia IREP piuttosto che dell'aumento del credito di imposta si agisca con una riduzione di spesa corrente è una nostra connotazione fondamentale per il nostro partito per cui non sarebbe per noi compatibile una dequalificazione complessiva direi che questa Presidente Alfano come ha già detto deve essere una connotazione particolare anche all'interno del governo che non si confondano mai le due questioni grazie io devo aggiungere veramente molto poco che è stato detto tutto in maniera assolutamente estauriente volevo semplicemente chiarire che l'aumento della franchigia IREP per le piccole imprese individuali le piccole imprese, gli artigiani e tutti coloro che ne potranno soffrire sarà dimensionata intorno ai 3.000 euro di aumento della franchigia e quindi questo ci dà come diceva il Presidente Azzolini una esigenza di copertura di 270 milioni circa che è assolutamente compatibile con la previsione del gettito dalla rivalutazione dei beni d'impresa che è una rivalutazione che tende a rafforzare il patrimonio delle imprese a renderle più competitive sul mercato internazionale e anche a renderle più solide nei confronti del sistema creditizio e quindi è una rivalutazione che è attesa dal settore delle imprese questa riapertura dei termini sia temporali che quantitativi è sicuramente positiva per tutto il sistema economico quindi penso che anche la rivalutazione delle franchigie potrà essere un'ulteriore spinta all'occupazione e quindi un'ulteriore spinta al motivo fondamentale che è uno dei motivi fondamentali che ha ispirato questo decreto che è quello della ripresa non solo dell'occupazione ma anche dei consumi per quanto riguarda i livelli di intervento sui redditi familiari è stato detto e quindi credo che sia più importante anche cogliere quanto ha detto l'onorevole Alfano riguardo poi alla futura fase in delega fiscale di semplificazione e di determinazione di un livello di reddito al di sotto e fino al quale si interverrà con una tassazione forfettaria indipendentemente dalla tipologia di reddito credo che sarà una importante novità e che questo sia un passo un primo passo decisivo per raggiungere quella finalità domande? non ci sono domande? risposte c'è una vicenda che sta tenendo il banco oggi ed è la richiesta da parte di Forza Italia di una commissione d'inchiesta dopo le affermazioni del segretario americano al tesoro Geithner noi volevamo sapere qual è la sua posizione in merito guardi valuteremo il da farsi vediamo noi abbiamo assistito alla caduta del governo Berlusconi nel 2011 abbiamo vissuto anche da protagonisti quella fase conosciamo un po' l'andamento politico di quei mesi vedremo la proposta che presenterà Forza Italia con i contenuti precisi e valuteremo poi il comportamento da tenere Ministro buonasera Manolo Lanaro il fatto quotidiano l'ex ministro Scaiola aveva in tasca un telefonino intestato al dipartimento di pubblica sicurezza del Viminale volevo sapere se lei ne era a conoscenza se ha autorizzato questa spesa da quanti anni andava avanti questa situazione se Corte dei Conti e Procura erano avvisate grazie guardi non ho l'elenco di tutti i telefonini intestati al Viminale è una vicenda che ha vari risvolti mi pare di capire che anche dalle autorità giudiziarie da lei citate si evidenzino i risvolti di natura contabile eventualmente contabile o penale saranno le autorità competenti ad occuparsene e il Ministero farà la propria parte come sempre non lo sapeva ci mancherebbe altro Gelfi Tg2 due questioni una sulla proposta ed è la copertura cioè quanto costa l'operazione quotiente familiare e partite IVA perché ormai ogni questione viene sollevata in termini di copertura quindi se c'è un minimo di indicazione l'altra al Ministro Alfano una questione relativa all'Expo alle polemiche di questi giorni se si è fatto a sufficienza e che cosa risponde a un bel grillo che dice fermiamo tutto grazie coperture forse Azzolini abbiamo il privilegio di avere il Presidente della Commissione Bilancio del Senato e 88 questo ci dicono i tecnici e 277 88 per l'IRAS e 277 per l'IRAP avevo detto 400 perché preferisco 400 i decimali i decimali possono sfuggire ma le tifre stimate sono quelle che gli ho detto poco fa io ho capito 277 più 80 cioè 270 più 80 tutte e due 400 più 90 comunque 400 tutte e due tra i e se io le ho detto 400 in maniera prudenziale faccio un certo tipo di attività e quindi sono sempre prudente ho detto 400 compresi la sala compagnia ma io faccio quel lavoro portanto per le famiglie anche sull'Expo Grillo rappresenta il partito della rabbia e chi ritiene di affidarsi alla rabbia può votare per Grillo ma sappia chi ritiene di votare per Grillo che come è stato ininfluente Grillo nel Parlamento italiano lo sarà anche nel Parlamento europeo è una risposta chiudiamo tutto noi non siamo di quella idea e infatti noi non vogliamo rappresentare la rabbia ma vogliamo rappresentare la speranza di un paese che cambia un paese nel quale si cominciano a fare le riforme si supera il senato si cancella la legge elettorale incostituzionale un paese in cui si diminuiscono le tasse per 10 miliardi un paese in cui si smonta la legge Fornero perché complicava la vita a chi fa le assunzioni la speranza di un paese che possa davvero cambiare ecco noi diciamo a tutti quelli che vedono Grillo dire non facciamo l'Expo che se non ti basta la protesta se tu non sei di sinistra c'è il nuovo centrodestra noi siamo esattamente quella scelta di chi non si accontenta della protesta e di chi non è di sinistra noi prendiamo due impegni molto importanti con chi ci sosterrà il primo impegno è di portare avanti il cambiamento del nostro paese di farlo con forza con energia con rapidità e il secondo impegno che prendiamo è di usare tutto il consenso che riceveremo per ricostruire un centrodestra unito e vincente alternativo alla sinistra e capace di batterla nella prospettiva futura oggi noi collaboriamo transitoriamente con un governo che ha alla guida Matteo Renzi e facciamo perché il leader della sinistra italiana cioè Renzi ha sposato insieme a noi un programma di grande cambiamento e di grande riforma e questa è la scelta che noi abbiamo fatto e quindi chi ritiene che la situazione italiana si possa risolvere con un vaffa collettivo compresa l'Expo noi diciamo che la situazione italiana così come quella europea si può risolvere con una grande speranza affidata a un cambiamento fatto di leggi di riduzioni fiscali di riforme e di una nuova impostazione fiscale che veda al centro la famiglia e gli autonomi Ministro Marisa Di Nolfi Rai News 24 c'è stato sull'immigrazione uno scontro con l'Unione Europea il portavoce della commissaria Malmstrom sostiene che non siano arrivate indicazioni precise dal nostro paese cosa risponde? Rispondo che le dichiarazioni della Commissione Europea sono al confine tra il provocatorio e il ridicolo vogliono che diciamo loro che abbiamo bisogno che nel Mediterraneo intervenga l'Europa con una scelta chiara mettendo sull'operazione Mare Nostrum la bandiera europea e che la faccia Frontex vogliono che noi spieghiamo all'Europa ancora una volta che questi sono richiedenti asilo che non vogliono stare in Italia e vogliono stare in Europa ma ci facciano il piacere ma la smettano di essere così perché così muore l'Europa nel cuore dei cittadini europei queste cose le abbiamo dette nei vertici europei le abbiamo dette pronunciando discorsi anche in momenti drammatici al Consiglio dei Ministri degli Interni europei le abbiamo messe per iscritto quando abbiamo partecipato alla task force europea le abbiamo sempre detto e se le vogliono iscritte con una letterina facciamo prima io tra poco ho un appuntamento telefonico con la Malmstrom e gliele dico al telefono questa è l'Europa della burocrazia è l'Europa delle letterine l'Europa che di fronte al dramma dei morti manda e aspetta letterine noi siamo un grande paese che vuole fare parte di una grande Europa e diciamo chiaramente all'Europa che o presidia la frontiera del Mediterraneo insieme a noi oppure tutti quelli che avranno l'asilo politico in Italia noi li manderemo dove vogliono andare cioè nel resto dell'Europa perché non vogliono stare in Italia nessun altro grazie e scusate per il ritardo e scusate e scusate e scusate e scusate e scusate